Cammina come un campione, parla come un campione Mi chiedi di spaccare tutto chiaro che ho bildi Non sono come te che dici dici ma non fai vai Questa base karaoke è realizzata con campioni di suoni reali È possibile ottenerla in qualsiasi formato audio Chiama il numero italiano 391-4157-028 Questa base è realizzata con campioni di suoni realizzata La dedico a loro ad ogni viva Grazie a tutti 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 Grazie a tutti